scatman's world allora ragazzi volevo spiegare una cosa perché sinceramente forse non sono chiaro io o non lo so allora ho letto alcuni commenti del freno che avevo già spiegato che volevo fare una comunque visto che avevo cominciato anche più tardi a giocare volevo fare una cosa easy e facile per poi insomma fare queste stati a moto gp che ho cominciato tardi e poi andare con gli altri giochi fifa e nba così la difficoltà era difficile lo stesso perché volevo una cosa non troppo non troppo pressante tutto quanto però dicevo sempre commenti roba me dispiace ragazzi perché cioè io purtroppo forse vedo youtube in maniera diversa dagli altri youtubers o da voi cioè per me youtubers è giocare stare con voi e praticamente condividere delle mie esperienze però io non sono c'è nel senso c'è secondo me la bellezza del video è vero che non puoi mettere livello facile però non puoi neanche non puoi neanche far diventare youtube un lavoro cioè non è che posso stressarmi se non arrivo prima a difficoltà reale difficoltà fisica pro e va a fare un culo e tutto quanto io devo giocare sotto secondo il mio divertimento e poi cercare di riportarlo a voi però ragazzi visto che io comunque vi ascolto allora sui freni avevo deciso di metterli automatici per non diciamo per non rompermi troppo i coglioni nelle nelle cadute o cosa però se voi volete ora ho messo difficoltà reale dopo faccio anche vedere ho messo difficoltà reale i freni non automatici e fisica però ragazzi lascio semi pro perché se no mi spacco i coglioni cioè non veramente diventa uno stress fare i video invece io voglio divertirmi con voi e adesso vediamo come va comunque ragazzi ho preso il secondo posto in griglia e che ne sono anche contento perché la difficoltà reale andare col secondo posto in griglia è una bella soddisfazione con questa moto il telai l'ho sviluppato ok siamo a uno perfetto motore a posto il resto una merda e andiamo ragazzi difficoltà reale semi pro la fisica e nessuno vai ragazzi andiamo vai sax ring sotto la pioggia spero mi sarebbe vincere per avere la soddisfazione personale che si ripete non ce va con nessuno ragazzi solamente youtube non è un lavoro non posso stressarmi con difficoltà massime cose io cerco di portare la mia esperienza secondo le mie abilità ragazzi tutto qua eccoci qua adesso teniamo la registrazione fino alla fine così vedete il livello di difficoltà e tutto perché cioè a me piace fare queste cose perché io ragazzi c'è per esempio una persona mi ha scritto critica costruttiva e l'accetto serenamente come varie volte sei troppo tranquillo o cosa proprio io ho anche 26 anni cioè nel senso non sei che posso fare il coion ogni giorno cioè io capisco che è bello sentire i pazzoi però 26 anni magari non sempre puoi avere la giornata da fare il cazzone e tutto quanto io cerco di tenere uno standard tengo uno standard e cerco di rapportarmi così ripeto non ce l'ho con nessuno a prezzo dei vostri commenti c'è anche il fatto che magari voi hai quasi 20.000 iscritti però magari non hai 30.000 mi piace c'è non è questo c'è chi se ne frega nel senso c'è quei 100 mi piace che ho sono quelli che mi fanno cioè che mi fanno stare benissimo che mi dicono cazzo ora 100 persone io non sono qua per avere i mille mi piace e i 100.000 iscritti cioè non è questo il mio obiettivo ragazzi e l'ho sempre detto l'ho sempre detto io il mio lavoro le mie cose cioè le mie ispirazioni che di certo non è quello di diventare un youtuber devastante andare in televisione per i giochi ho un'ispirazione un po' più ambiziosa sinceramente nella mia vita questo non dico non è che voglio criticare chi invece vuole io per lavoro fare youtuber assolutamente però io penso che un uomo possa fare anche qualcosa di più ecco di fare solo videogiochi questo è il mio pensiero ragazzi e lo sapete cioè ve l'ho sempre detto se non è questo mi diverto faccio due risate con voi e visto che comunque giocherò lo stesso perché io amo giocare voglio condividere con altre persone tutto qua le persone che mi seguono da sempre tutto quanto sono fenomenali perché hanno capito il mio discorso e quindi le apprezzo in una maniera devastante mi piacerebbe anche questo di quest'anno al 99% ci sarò a milano e a roma perché voglio vedere come sono queste cose qua che non sono mai andato sono curioso se ne trovo anche solo uno che mi dice ciao comendone sei un cazzone devastante io già lo amo cazzo già è un figo per me oddio qua stiamo parlando vai comendone the best kum in the world dai kum dai kum voglio vincere sta gara che sarebbe una soddisfazione obesa fiore l'obesoide la potenza ci sarà abbiamo dovuto essere fisica approccia è un circolo vizioso lo so me ne rendo conto però insomma io ho visto anche video di moto gp di altre persone non mi sembra di dire tutti questi fenomeni che giocano difficoltà non reale fisica approccia non lo so anche è chiaro che alcune fa notizie alcune non è il gondolaro ci sta ci sta è risultato alla mostra del cinema ragazzi tutti mi hanno fermato questo è il vip ragazzi altro che youtubers questo è un attore di hollywood quanti mi hanno scambiato per danny de vito mamma mia e te la direi col freno manuale è più una rotura di cazzi chiaramente perchè non puoi permetterti di sbagliare niente bravo intanto gli avversari non li vedo comunque dove sono gli avversari? è difficoltà reale ma gli avversari non ci sono comunque e go dopo eh un secondo e quattro e silenzio dopo è chiaro la fatalità che sto anche nella gara che sono anche bravetto quindi non diciamo che ho scelto la gara giusta però però insomma intanto intanto sotto di lui ho qualcosa combinato anch'io eccoci qua e signori servita la terza vittoria di filo Winner QM benissimo ok bravo com'è adesso vediamo tutto così non ci sono polemiche ah ripeto fisica se vi promesso ma tanto riceverò i commenti ma alla fine c'è il discorso che i commenti così sono che costruttivi mi piacciono cioè allora siamo quarta 133 ottimo ok adesso vediamo i livelli di difficoltà allora danni pesanti difficoltà IA reale c'è scritto ok reale buono buono adesso andiamo a far vedere anche eeeh senza dubbi è stata un'ottima giornata per lui si cazzo godo godo quanto godo il godimento libidinoso 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 gara perfetta godo allora calendario Indianapolis ripeto non ce l'ho con nessuno voglio ancora più bene a chi mi stimola così perché mi fa giocare meglio ok opzioni gara weekend completo reale metodo casuale pesanti consumi gomme che decolo stupido e da bene disciplinare si aiuti guida fisica semi pro freno automatico no ah i freni congiunti ecco questo si è vero i freni congiunti si estretto assistito no quindi ecco i freni congiunti spero non sia un problema anche questo eeeh raga un saluto al comedone veneziano ripeto non ce l'ho con nessuno anzi grazie che mi stimolate sempre a fare meglio eeeh ringrazio sempre tutti i miei iscritti e ripeto non preoccupatevi se ho solo 130 iscritti che mi piace e io ho 1500 visualizzazioni a video per me è perfetto così non voglio né di più né niente voglio solo che vi potete come si dice sorridere un attimo a un video del comedone raga un saluto dal comedone veneziano ciao cum ne da veneziano cum ne da veneziano oh nouhan youtubers italianian cum ne da veneziano cum ne da veneziano come ne da veneziano lo youtubers italiano